L'ordinanza ANAS per la riapertura della statale della Val Cannobina sarebbe pronta, manca solo una firma ed è questione di ore. La strada chiusa dal 12 luglio scorso per una grossa colata di fango e detriti che si è riversata a Valle, potrebbe riaprire domani, martedì 3 settembre, con un senso unico alternato regolato da semaforo. Con l'avanzare dei lavori per la messa in sicurezza dei versanti, il sindaco di Cannobio, Gian Maria Minazzi ha inoltre... Festa del Boden, in piazza Bianchetti a Ornavasso, tutte le sere cucina e cocktail bar, da giovedì a lunedì 9 settembre.